Direi che possiamo andare avanti con il programma e le relazioni che dobbiamo svolgere. Chiederei al professor Giuliani di fare da chairman per la sessione successiva che riguarderà gli studi in vivo e in vitro fatti sul problema delle emissioni elettromagnetiche e dell'esposizione ai radar. Doveva presiedere questa sessione il dottor Morando Soffritti, ma non è con noi perché è partito per l'Armenia, mi pare. E quindi indegnamente lo sostituisco. Bene, la prima relazione è quella del dottor Marinelli, effetti biologici del radar nelle abitazioni di potenza picena. Questo lavoro riguarda uno studio che ci siamo prefissi di fare per cercare di gettare un ponte di conoscenza tra gli effetti prodotti epidemiologicamente dal radar sulla popolazione e il nesso di causalità possibile con la radiazione del radar. Questa idea è venuta all'inizio proprio perché alcune persone ci chiedevano ma è preoccupante essere esposti al radar. Io abito in un'abitazione da dove il radar si vede molto bene. Che cosa succede? Sono irradiato, può farmi male. Così decidemmo di cominciare a fare delle esposizioni di cellule nelle abitazioni dove si erano verificate delle patologie. Una considerazione fondamentale va fatta sul fatto che in questi anni il livello di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è, uso la stessa parola di prima, drammaticamente cresciuto. Se guardate questa curva dell'aumento delle radiofrequenze nell'ambiente vi rendete conto che in pochi anni si è passati da valori quasi inesistenti a valori drammaticamente elevati. Dico drammaticamente perché dal punto di vista biologico le radiazioni elettromagnetiche, anche quelle dei telefonini ovviamente, non solo quelle dei radar, anzi forse il telefonino è lo strumento più invasivo che utilizziamo a causa della sua vicinanza, le radiazioni elettromagnetiche producono un'alterazione ambientale che io paragono al versare una boccetta d'inchiostro in un acquario. Cioè l'ambiente in cui viviamo è profondamente modificato in questi ultimi anni rispetto a quelli che sono stati i tempi evolutivi. Cioè i tempi in cui la vita si è fermata sulla Terra dove tutte le radiazioni tecnologiche non esistevano. Ricordo ancora, questa è la release dello IARC che classifica le radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e non si può prescindere da questa valutazione di pericolosità. Proprio ieri, dicevo, lo IARC ha pubblicato il razionale che sta al di sotto della dichiarazione di possibili cancerogeni per l'uomo cosa che ci si aspettava ma che è stata ritardata per due anni rispetto alla dichiarazione e alla classificazione che è stata fatta di pericolosità cancerogenetica. La valutazione della possibile pericolosità subisce sempre degli incomprensibili ritardi rispetto alla tempestività che sarebbe necessaria per sottrarre la popolazione dalle esposizioni. Uno dei meccanismi che si ritiene importanti con cui le radiazioni elettromagnetiche producono delle alterazioni metaboliche funzionali nelle cellule è quella dell'assorbimento da parte della molecola d'acqua delle radiazioni e se guardate lo spettro elettromagnetico con cui si irradia per esempio una porzione di acqua ci si rende conto che la risposta dell'acqua è molto peculiare e che all'aumentare della frequenza aumenta la riscettività del segnale e proprio a 2450 MHz che è la radiazione con cui si usa il forno a microonde l'acqua riceve in maniera molto importante il segnale elettromagnetico. Poi nella porzione del visibile invece l'acqua diventa trasparente non assorbe più l'onda elettromagnetica tant'è vero che noi la vediamo trasparente per questo motivo e diventa di nuovo recettiva la molecola d'acqua alle onde elettromagnetiche dopo l'ultravioletto. Quindi la molecola d'acqua che rappresenta una grossa percentuale della costituzione del nostro organismo è uno dei più importanti recettori dell'onda elettromagnetica irradiata. Nel nostro studio abbiamo valutato una serie di geni che vengono modificati ed attivati dalla radiazione elettromagnetica esistono due tipi di influenze su geni che causano la sopravvivenza cellulare e geni che invece producono la poptosi e la morte cellulare a seconda della quantità di danno che le cellule hanno subito. Negli anni passati abbiamo pubblicato una serie di studi in cui si verificava che nei brevi tempi di esposizione le cellule subivano un danno importante irriparabile tanto che è la curva verde a cui mi sto riferendo e venivano attivati i geni apoptotici in una maniera molto approfondita. Dopodiché proseguendo l'irradiazione delle cellule per tempi più lunghi si invece verificava l'attivazione di geni che invece producono la sopravvivenza cellulare producendo un effetto che potrebbe essere anche questo drammatico e cioè che cellule che erano in qualche modo aberranti perché danneggiate ma non completamente eliminate dalla radiazione elettromagnetica venivano fatte proliferare e quindi potevano dare origine a cellule tumorali. Il radar di potenza picena come è stato detto precedentemente è nella zona da moltissimi anni e il segnale radar così come viene ricevuto anche alla distanza in questo caso di 15 chilometri questo spettro è stato registrato a 15 chilometri di distanza è costituito da una serie di impulsi che essi stessi producono alterazioni della carica elettrica all'interno degli organismi e delle cellule infatti il segnale radar è modulato da una serie di picchi che sono questi in cui esiste una differenza tra la linea basale e la linea di picco di 25 dbm che corrisponde a un'alterazione di quasi in questo caso di quasi 4 volt per metro è proprio il transiente cioè il passaggio di carica elettrica indotta dall'impulso elettromagnetico del radar a produrre quelle alterazioni elettriche di cui parlava anche il professor Scalia prima all'interno della cellula nel nostro studio abbiamo portato le cellule in coltura in diverse abitazioni a diverse distanze dall'emissione radar e in questi luoghi dove c'erano delle famiglie con patologie che erano state in questi casi palatoschisi autismo dei bimbi di due bimbi tumori al seno e la tiroide due tumori al seno leucemie e infarto in queste abitazioni sono state fatte colture cellulari per verificare se le cellule in coltura subivano un danno da parte dello stesso segnale del radar che continuava a colpire le persone il sistema di esposizione era questo è una specie di incubatore portatile in cui si controllano le condizioni di coltura e le radiazioni venivano schermate nelle cellule di controllo mediante un film metallico messo a terra e quello che potete vedere è che attraverso questa antenna ricevente si può vedere il segnale all'interno dell'incubatore che è quello mostrato dall'analizzatore di spettro e in questo momento è quello strumento che è stato attivato anche lì al lato della sala dove si può vedere il segnale registrato in un'abitazione del radar la frequenza del radar è già stata ricordata 1029 megahertz di segnale secondario e 3,26 gigahertz per il segnale primario con una densità di potenza nel caso dell'abitazione in cui abbiamo fatto la seconda sperimentazione di meno 9 di BM corrispondente a 58 millivatt per metro quadro con un campo elettrico di 4,7 volt per metro in un'altra abitazione abbiamo messo in funzione un dosimetro registratore insieme alle cellule all'interno dell'incubatore dove si vede per le 48 ore di esposizione delle cellule stesse il segnale radar che veniva ricevuto come vedete siamo a livello di quasi 6 volte per metro con la serie dei picchi che sono quei segni rossi che vedete in questo grafico il risultato della citotossicità cellulare è dato da questa valutazione fatta nei pozzetti di coltura in cui si vede che come potete notare ci sono 4 file di pozzetti che contengono le cellule a 24 ore le prime due file di cellule sono quelle esposte vedete che sono più chiare le seconde due file di cellule sono quelle che invece sono di controllo e sono più scure perché in queste pozzetti le cellule sono sopravvissute in quanto sono di controllo ed erano schermate mentre invece in queste hanno ricevuto il segnale del radar e sono morte di più che in questi pozzetti qua come vedete l'esposizione a 24 ore ha prodotto una eliminazione di una grossa percentuale di cellule come l'esposizione a 48 ore con il suo controllo e mostra che c'è una differenza sostanziale nella sopravvivenza cellulare i valori di lettura allo spettrofotometro ci dicono che le differenze sono statisticamente significative con una probabilità inferiore al decimillesimo su quelle cellule le analisi di western blot cioè le analisi genetiche che hanno permesso di valutare l'espressione dei geni che portano alla morte cellulare diventano particolarmente evidenti infatti vedete che nelle cellule di controllo la caspasi che è quel gene che appunto produce la morte cellulare viene espressa meno che nelle cellule esposte dove si vede molto di più dal punto di vista morfologico se guardiamo queste cellule al microscopio elettronico siamo in grado di riconoscere cellule come cellule normali come questa verde qua dove si vede il nucleolo il nucleo e la membrana nucleare ben definiti una cellula che è in attivazione apoptotica dove vedete il nucleo è frammentato in due parti e una cellula ormai in eliminazione molto degradata che invece la cellula apoptotica è nella fase finale dell'apoptosi in microscopia ottica si possono fare le stesse valutazioni dove si possono vedere queste con le frecce gialle cellule normali e poi cellule alterate dal punto di vista dell'attivazione apoptotica sono tutte quelle con le frecce rosse che indicano che il contenuto cellulare è stato in qualche modo modificato ed alterato ancora in un'altra abitazione le differenze ottenute in colture cellulari questo è il 13 marzo del 2011 è un'abitazione che si trova alla distanza di due chilometri circa dal radar dove c'è una differenza appunto tra le cellule esposte che sono più chiare e le cellule di controllo che invece sono più scure e non sono state alterate in definitiva attraverso gli studi fatti in vitro utilizzando un segnale radar prodotto da un generatore in laboratorio e attraverso i risultati ottenuti nelle colture fatte nelle abitazioni attraverso gli studi fatti sulla metilazione del DNA di queste cellule in coltura esposte e attraverso gli studi epidemiologici la valutazione dei dati fatti dal professor Brizzi che presenterà i risultati più tardi possiamo dire che esiste un fattore di rischio per la salute dei cittadini di potenza picena se sono esposti al radar queste alterazioni che abbiamo trovato sulla proliferazione cellulare indicano delle alterazioni profonde sia delle colture cellulari ma ciò che è più preoccupante è che queste alterazioni possono essere possibili nelle cellule delle persone che abitano esposte alla radiazione del radar il professor Brizzi farà l'esposizione più tardi della indagine epidemiologica i cui dati furono raccolti dalla signora Mazzarella ormai 15 anni fa il dato importante di quella valutazione epidemiologica è che semplicemente su quei dati sono state fatte delle selezioni per verificare quanta popolazione era esposta e quanta non esposta al campo del radar e quindi valutando la significatività per diverse patologie rispettivamente alla esposizione e non esposizione della popolazione quindi sulla base di tutte queste valutazioni diventa indispensabile che le istituzioni sanitarie e politiche attivino un sistema di protezione della popolazione da questo radar e quindi è opportuno che questa sorgente di radiazioni che è così invasiva per il territorio di potenza picena prima o poi venga spento grazie Grazie.